Ecco c'è il grido di battaglia. Vero? Sì! Vero? Sì! Oltre alla passione, alla conduzione fiscica ci vuole cattiveria agonistica, rabbia! Oggi voglio vedere una squadra incazzata! Vi voglio incazzati! Capito? Sì! Che fa il castellino? Lugisce! Che fa il castellino? Lugisce! Non uscite, cazzo! Ecco il grido di battaglia. L'ultimo chiude la porta e spenga la luce pure, l'ultimo. Già l'era. Sì, sì.